Continua il monitoraggio di ACTV per rimodulare i servizi ai veneziani senza tagliare nulla, in particolare sulle linee 1 e 2 che hanno dovuto adeguarsi alle esigenze invernali e i loro collegamenti con la Giudecca e il Lido. I risultati dell'indagine del mese di novembre hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ad ACTV e all'assessore Ugo Bergamo, che ora, dati alla mano, possono affermare che dopo mesi di stress e sofferenza, nell'incertezza di orari e di possibilità di salire o scendere, si è finalmente tornati alla normalità. Il servizio funziona, anzi alcune corse bis addirittura sono assolutamente inutili perché trasportano pochissimi passeggeri e quindi andremo a ritoccare. Anche per quanto riguarda i collegamenti importanti, tipo Zatta e Giudecca, che lamentano molti cittadini come insufficiente, abbiamo voluto dare una risposta in termini non di emotività ma di reale verifica dell'effettiva esigenza dell'utenza e sia nelle ore matutine che serali abbiamo visto che il servizio come oggi organizzato non lascia a terra nessuno e garantisce il rapido deflusso o arrivo a Venezia della popolazione che deve trasferirsi da una parte all'altra del canale giudeca. Risorse da utilizzare al meglio, gestire quel che si ha, insomma, perché i servizi di navigazione hanno subito un taglio del 25% sui contributi regionali. Ma l'obiettivo è quello di mantenere le corse anche se l'impresa sarà dura. Il costo del servizio è di 145 milioni l'anno, di cui 97 ricavati dalla vendita dei biglietti e 45 dei contributi regionali. Abbiamo da un lato la regione che ci ha tolto fondi pari al 25% dei servizi relativi ai servizi minimi e dall'altro abbiamo una situazione nella quale stiamo cercando di ottimizzare l'utilizzo delle risorse per far sì che questo taglio di fondi del 25% della regione non abbia riflettersi un taglio di 25% dei sfettivi.